Queste cinque donne per segno zodiacale sono veri angeli. Hanno un cuore d'oro. Ciao amici, oggi abbiamo un video speciale dedicato ai cinque segni zodiacali, le cui donne hanno un cuore eccezionalmente gentile e dorato. Sono veri angeli tra noi. Resta sintonizzato per scoprire se il tuo segno è in questa lista magica. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perdere video più interessanti. E cominciamo! 1. Cancro. Le donne cancerose sono note per la loro empatia e la loro natura premurosa. Sono sempre pronti a sostenere e aiutare, anche se ciò richiede sacrificio personale. La loro intuizione permette loro di sentire il dolore degli altri e cercare di alleviarlo. Vi raccontiamo alcune storie che confermano la loro natura angelica. 2. Toro. Il toro apprezza la bellezza in tutte le sue forme e si sforza di condividerla con gli altri. Le donne di questo segno hanno un grande cuore e sono sempre pronte ad aiutare gli altri, facendolo con calore e cura speciali. 3. Bilancia. Le donne della bilancia irradiano armonia e giustizia. Cercano di aiutare gli altri a trovare l'equilibrio e spesso agiscono come operatori di pace. La loro capacità di vedere entrambi i lati della medaglia li aiuta a risolvere i conflitti pur rimanendo onesti e compassionevoli. 4. Pesci. La profondità emotiva dei pesci è sorprendente. Le donne di questo segno sono così sensibili e reattive che a volte sembra che leggano nel pensiero. La loro capacità di simpatizzare e sostenere a livello emotivo li rende dei veri angeli. 5. Vergine. Le donne vergine mostrano il loro amore e la loro cura attraverso le azioni. Potrebbero non dire molte parole, ma le loro azioni parlano da sole. Si sforzano sempre di aiutare, organizzare e migliorare la vita degli altri, facendolo con amore e devozione. 3. Nessun